Giorno 559. Molte delle notizie di oggi vengono dalla direzione di Tokmak. Cominciamo con le nuove informazioni disponibili sul recente sfondamento delle difese russe a sud di Robotine. Come detto in precedenza, i russi hanno sfruttato la geografia locale per creare una fortezza formidabile su una collina che gli ucraini hanno faticato a catturare per diverso tempo. Video rilasciati di recente dai combattenti della quindicesima brigata mostrano l'assalto a queste trincee fortificazioni e fonti russe riportano che questo improvviso successo è avvenuto grazie al fatto che gli ucraini hanno atteso che i russi conducessero una rotazione e fossero quindi estremamente vulnerabili. Ciò nonostante, anche i più prominenti analisti russi hanno continuato a credere che i russi fossero presenti nelle periferie a sud di Robotine e non permettessero agli ucraini di entrare nel villaggio. I dubbi sul successo ucraino però si sono dissipati al rilascio del video, in cui si possono vedere i soldati ucraini camminare tranquillamente tra le strade dell'insediamento. La conferma finale dell'avanzata ucraina è arrivata dagli stessi russi, quando i loro soldati hanno rilasciato un video di un attacco di droni sulle trincee ucraine a sud di Robotine. Fonti russe hanno anche cominciato a dare l'allarme sul fatto che gli ucraini si stiano preparando per sfruttare questi progressi rinforzando la regione, il che potrebbe portare a un attacco sul nuovo Prokopivka. Ciò non sorprende, in quanto gli ucraini possono ora sfruttare lo stesso vantaggio tattico che avevano i russi. Se guardiamo la mappa topografica possiamo vedere che questa posizione si trova sulla collina e permette agli ucraini di stabilire controllo di fuoco sull'intera area. Ed ecco perché i russi hanno immediatamente contraattaccato. In un primo momento hanno provato a tendere un'imboscata notturna ai ucraini. Hanno condotto un'intensa preparazione d'artiglieria per tutta la giornata, per minare le difese e poi mandato diverse unità di notte. Sfortunatamente per loro erano in piena vista e gli ucraini li hanno notati subito. Hanno deciso di lasciarli avvicinare e nel mentre preparavano una controimboscata. Appena i russi si sono avvicinati abbastanza, gli ucraini hanno aperto il fuoco simultaneamente da tutti i lati ed eliminato l'unità d'assalto. I russi non si sono però fermati. Video rilasciati di recente mostrano che gli ucraini hanno subito altri assalti durante la giornata, ma sembra che abbiano avuto il tempo di ripulire l'aria e rinforzare le difese poiché tutti gli attacchi sono stati respinti. I comandanti russi hanno compreso che attaccare la fortificazione solo da un lato non era abbastanza e hanno quindi sviluppato un nuovo piano. Questa volta hanno deciso di attaccare gli ucraini da due lati, da ovest e nuovamente da sud. L'obiettivo principale era quello di tagliare i rifornimenti e rinforzi alla fortificazione e idealmente dividere le forze ucraine in due gruppi. I russi sono riusciti a entrare nel villaggio e a mettere a rischio di accerchiamento le forze ucraina sud, ma il giornalista di guerra russo ha aggiornato immediatamente sulla situazione dicendo che gli ucraini avevano rinforzato robotine. Gli ucraini hanno infatti eliminato l'attacco russo ai fianchi, effettuando un attacco ai fianchi. E' stato rilasciato poi un video che mostra la situazione dopo la battaglia. Il mitragliere di un Max Pro ha dichiarato che se non fosse stato per l'affidabile corazzatura del veicolo avrebbe ricevuto almeno tre colpi diretti alla testa. Il Max Pro è anche sopravvissuto a un colpo diretto di un RPG e il suo essere ancora operabile ha permesso all'attacco di continuare, ed è oltretutto riuscito a tornare alla base senza bisogno di essere recuperato. In generale, gli ucraini hanno rispinto una serie di potenti e pianificati contraattacchi e sono riusciti a mantenere il controllo su queste posizioni cruciali da dove intendono sviluppare le operazioni offensive verso Novoprokopivka. Un attacco inevitabile anche secondo gli analisti russi, secondo i quali gli ucraini proveranno a sfruttare lo sfondamento a est del villaggio per ripulire la seconda linea di difese fino a Novoprokopivka e stabilire le condizioni per un attacco ancora più ampio contro l'ultima linea difensiva russa prima di Tokmak. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.